Musica Eccoci benvenuti nell'edicola di 8 Channel venerdì 10 marzo Andiamo a vedere insieme i titoli in primo piano sui quotidiani nazionali e locali Cominciamo dalla Repubblica Il Governo si è fermato a Cutro La strage dei migranti dal Consiglio dei Ministri in Calabria Nessuna spiegazione sui mancati soccorsi Proteste degli abitanti che lanciano peluche Tensioni con i giornalisti La Premier è stata colpa degli scafisti E presenta le misure contro i trafficanti Salvini impone la linea dura pure sui rifugiati Scontro con Crosetto Meloni evita l'omaggio alle bare Andiamo a vedere Nelle pagine interne Dunque peluche di protesta contro le auto blu Meloni e i ministri ignorano le bare CDM straordinario a Cutro A 12 giorni dalla tragedia Striscioni e cori dei residenti Lo vedete anche nelle foto Vogliamo giustizia Il Governo diserta il Palasport dove sono ospitati i feretri dei migranti Prima contestazione per la Premier Scritte contro piante dosi Solo in serata poi Palazzo Chigi Annuncia l'invito ai familiari a Roma Caccia globale agli scafisti E stretta ai permessi Andiamo a vedere quali sono le misure Valutate dal CDM nella giornata di ieri Reato perseguibile in acque internazionali Pene a 30 anni Limiti alla protezione speciale Dunque da 20 a 30 anni di carcere Se si causa la morte di più persone Da 15 a 24 se muore un solo migrante E da 10 a 20 anni se in un naufragio ci sono dei feriti Il Governo adotta la linea piante dosi per legge Lo fa introducendo un nuovo reato Che nei fatti accosta il favoreggiamento Dell'immigrazione clandestina Alla morte come conseguenza di altro reato Perché spiegano dal Ministero della Giustizia Dove la norma è stata pensata D'intesa con il sottosegretario della Presidenza Mantovano Chi mette quei disperati su un barcone Sa già che potrebbe farli morire Queste le novità In sintesi del decreto Dunque per quanto riguarda i flussi Oltre al nuovo reato Ci saranno anche nuovi criteri Nella protezione speciale per espulsioni e permessi Nel 2022 è riguardato 10.865 persone Si elimina la convalida del giudice di pace Per esecuzione dei decreti di espulsione Dopo la condanna La durata del rinnovo dei permessi di soggiorno Sale da 2 a 3 anni Il decreto flussi diventa triennale 2023-2025 Le quote saranno assegnate in via preferenziale Ai lavoratori di paesi Che anche in collaborazione con l'Italia Promuoveranno tra i cittadini Campagne mediatiche sui rischi Per la loro incolumità Derivanti dalle tratte illegali Nei centri per migranti Può essere nominato un commissario Nei casi di gravi inadempimenti Da parte dei gestori Questo è un altro aspetto Ovviamente della questione Viene potenziata la rete Dei centri di permanenza Per i rimpatri Con la possibilità di realizzare Le strutture Anche in deroga Alla legge Fatti salvi il codice antimafia E i vincoli Europei Andiamo a vedere ancora Nelle pagine interne Il reportage Sempre da Cutro L'errore della guardia costiera Barca sospetta Ma senza migranti Stiamo parlando Ovviamente ancora Delle indagini Che riguardano La strage Agli atti Dell'inchiesta di Crotone Il rapporto Che spiega Come venne presa La decisione Di non far scattare i soccorsi Gli strumenti Avevano captato Numerose chiamate Verso la Turchia E la presenza Di altre persone A bordo Ma questo Non bastò Dunque un altro tastello Che va a comporre Il puzzle Delle scelte sbagliate Compiute Quella notte Nel frattempo C'è stata Una raffica Di sbarchi E salvataggi Scrive Repubblica Assalto A Lampedusa Due naufragi Muore Una donna Dunque una nuova strage È sfiorata A largo di Lampedusa Due barchini di ferro Sono colati a picco Nei pressi dell'isola Prima che la guardia costiera Riuscisse ad intervenire 58 Sono stati salvati Ma per una donna I soccorsi Sono arrivati Troppo tardi Ancora nelle pagine interne La politica Prodi Benedice Bonaccini Presidente Schlein E l'ex sfidante Oggi firmano Il patto I due capi gruppo Saranno vicini Alla leader Lo sconfitto La punsecchia In tv Dobbiamo evitare Un'emorragia silenziosa Alleanze Non solo Con il Movimento 5 Stelle Avverte Bonaccini E intanto Arrivano le scritte Antisemite Contro la segretaria Dem Schlein La tua faccia È già un macabro destino Con la svastica E c'è stata Una presa di posizione Anche della premier Meloni Che Ha definito Vergognoso Questo Episodio E intanto Però A Milano Domani ci sarà Una riunione Una convention Neofascista Nasce Il primo cartello Delle sigle Di ultradestra Quindi Saranno insieme La lealtà azione Fortezza Europa Casa Pound Rete dei Patrioti E Veneto Fronte Schinez Dove ci sono 13 condannati Dal 2017 Dunque domani Tutti insieme A destra Di fratelli d'Italia Per pesarsi E per occupare Lo spazio Identitario Extra governativo Ed extra parlamentare Appunto A destra Del governo Usciamo Dalla Repubblica Andiamo a vedere Il Roma Doppia apertura Carceri minorili Numeri da inferno Parole d'ordine Dare una seconda chance E salvare Questi ragazzi E Ancora Killer Ucciso C'è la svolta Omicidio Davanti a una bambina Indagati Il boss Pagano E il genero Mezzi in fiamme Al borgo Notte di paura Al buvero Si indaga Sul pizzo Per i parcheggi Lo sport Napoli Serve Il vero Quara Per battere L'Atalanta Lo zano E out Gioca Politano Che dice Sono pronto In prima Sempre sul Roma Autonomia e sanità Sarà guerra A oltranza De Luca Ancora Sui tagli Alla sanità pubblica Dice Non c'è un euro Poi Al Cardarelli Intanto va al deserto Il concorso per i tecnici Si presenta solo il 17% Accoltellato un 22enne Rapina nel sangue A Napoli Caccia alla banda Sant'Antimo Omicidio Bortone Si segue la pista Della faida Tra i clan Dell'area nord Di Napoli Andiamo a vedere Nelle pagine interne Del Roma Assedio Al mezzogiorno Lo scontro Su sanità E autonomia Doppio Attacco Al sud De Luca Per la sanità Non c'è un euro E l'autonomia leghista Dirotta I soldi Al nord Il ministro Aveva accettato Alcune idee Della campagna Ma nella sua legge Non ci sono Attacca De Luca E intanto Anche Forza Italia Frena Calderoli Prima I LEP E i soldi Al meridione Gli azzurri Avvertono La legge È un punto di partenza Non di arrivo E attaccano De Luca Ha speso Solo il 42% Dei soldi Dell'Unione Europea Bugie Suffitto Serve un'operazione Verità Sulla spesa Della regione Questa è la richiesta Di Forza Italia A Napoli Intanto Gli stati generali Delle regioni Del sud Accordo IMS Campania Progetti PNRR Mancano i soldi Per assumere Medici e infermieri Tagliata La burocrazia Per i bimbi Disabili Ancora Sul Roma Gioventù difficile In primo piano In 400 In istituto 27 Con l'accusa Di omicidio La devianza Minorile I numeri Degli IPM Sono Da girone Infernale Ciambriello Sconcertante Che stiano insieme Adolescenti Adulti E stranieri Dunque I ragazzi Rispondono Quando gli diamo Cose concrete Sono queste le parole Degli addetti ai lavori Durante la conferenza Che si è tenuta ieri Nella sala Nassiria Del consiglio regionale Della Campania Per la firma Del protocollo Tra il garante Delle tenuti Della regione Samuele Ciambriello E il dirigente Del centro di giustizia Minorile Pino Cento mani Che il tema Della devianza Giovanile Stia occupando Vari tavoli Istituzionali E' evidente Soprattutto a causa Dell'impennata Dei numeri Evidenziati Dal garante Regionale Al 15 dicembre Dice Ciambriello 6.400 Giovani Campani Sono al servizio Sociale Minorile 400 Sono detenuti Nei 17 Istituti Penali Minorili Nazionali Di cui 201 Minori Stranieri 57 Sono a Nisida E 37 A Vairola Numeri Davvero Importanti Il maestro Di strada Moreno Cesare Moreno Ancora sul Roma Il linguaggio Fa dei giovani Un popolo separato Don Mario Di Maio Chiama a raccolta Le forze positive Della società Per creare Un ponte di ascolto Verso i ragazzi A Castellammare Di Stabbia C'è stato Il confronto Ancora Sul Roma Andiamo a vedere Nelle pagine Interne Della Campania Siamo a Baiano Morto In attesa Dei soccorsi L'ASL Si difende La ricostruzione Ufficiale Dell'intervento Per un 53enne E il ricorso Alla magistratura Per svelare La verità Potrebbe partire Un esposto Per chiarire La dinamica Dei fatti In relazione Alla morte Del 53enne Di Baiano Stroncato Da un infarto In attesa Di un'ambulanza Bisogna fare luce Sull'accaduto E' assurdo Morire così Aveva chiesto Il consigliere regionale Enzo Alaia Il presidente Dell'ordine dei medici Sellitto Denuncia Giusto Che la magistratura Faccia Le opportune Undagini Ma c'è da dire Che il personale Del 118 E' perennemente Sottorganico L'ASL Con una nota Fornisce La propria versione A seguito Di quanto riportato Dai mezzi Di informazione L'azienda Smentisce Il ritardo Di 98 minuti Di tempo Per l'arrivo Dei soccorsi L'ambulanza Infatti E' stato Allertata Dalla centrale Operativa All'1.15 Ed è partita All'1.16 Dopo 28 minuti Era già sul posto Dice l'ASL Fa fede L'orario Della telefonata Inoltrata Al 118 Dunque adesso Insomma Sarà la magistratura A verificare Le varie versioni Per capire Che cosa È accaduto È accaduto Sempre Nella stessa Area Dell'Irpinia Ma a Pago Vallolauro Cade dal camion E muore Un 61enne L'operatore ecologico Era intento Alla raccolta Dei rifiuti Dal Salernitano San Marzano Sul Sarno Giù Un ponte abusivo Che blocca Il Sarno Abbiati i lavori Per la demolizione Della struttura Che sarebbe Alla base Di diverse Sondazioni Del fiume In quella zona A Solopaca Inganna Ex insegnante Per derubarla L'anziana donna Riconosciuto Un suo alunno E lo ha accolto In casa A Napoli Staffisti Revocato L'incarico A Cinquegrana Ricorderete La polemica Per l'assunzione Degli staffisti A Palazzo San Giacomo San Giacomo Mancavano I requisiti Di base Ma Non si placa La polemica All'interno Di Forza Italia Arriva un'interrogazione Parlamentare Sui nove collaboratori E sui criteri Adottati Per le nomine Ancora Sul Roma Partito Nel caos Stiamo parlando Di Forza Italia Volano Gli stracci Guangi E Savastano Litigano Anche Con Patriarca Ormai Isolati Si appellano A Berlusconi Non accenna Dunque A placarsi Lo scontro interno A Forza Italia A livello Regionale Usciamo dal Roma Andiamo a vedere La Repubblica Edizione Napoli La viabilità In primo piano Paralisi Del traffico In centro Il comune Corre Ai ripari Tempi veloci Cantieri ridotti Ancora file Le ingorghi Da via Colombo Al municipio A via Acton L'assessore Cosenza Adotte i primi Correttivi Vogliamo attenuare L'impatto I vigili Noi pochi E in mezzo Allo smog Concorso disertato Al Cardarelli In aula Solo il 17% Dei candidati Alle prove Per geometri E tecnici Informatici Partecipano In 115 Il direttore Generale Dice Non ce lo Aspettavamo Napoli Vietata Ai 2500 Ultra tedeschi Assurdo Pronti Al ricorso Dicono I tedeschi Arriva La protesta Striscione Esposto Dai tifosi Del Bayern Contro Il ministro Piantedosi Ancora A piedepagina Mattarella Sulla tomba Di Dondiana La visita Il 21 Marzo In Campania A Casal Di Principe L'intervista La nipote Io Io Scout Onoro Il suo Coraggio Ripercorro I suoi passi Sempre a Casal Di Principe Stiamo parlando Di Iole Diana Nipote Del prete Ucciso E poi La notizia Che arriva Da Parigi Una Napoletana È morta In cella Nella Capitale Francese Ed è un giallo I genitori Chiedono Verità Su quanto È Accaduto Primo piano Tutto sulla Viabilità Tassa D'imbarco Il Comune Il ricorso Gesac Ci complica La vita Palazzo San Giacomo Evita lo scontro Con la società Che gestisce L'aeroporto Di Capodichino Che ha 30 giorni Per depositare L'atto La miccia È stata Innescata Se sarà un incendio Dipenderà Dalle prossime Mosse di Gesac Il gestore Dell'aeroporto D'altra parte Il Comune Non vuole alimentarlo Hanno fatto una cosa Che ci complica la vita Ma evitiamo Lo scontro Secondo l'Enab Il tributo La tassa D'imbarco Potrà scattare Dal 4 aprile Nel pool Di avvocati Di Gesac C'è il figlio Del Presidente Della Repubblica Mattarella E intanto A Castellammare Nasce La casa Di Imma Per aiutare Donne e bimbi Vittime Di violenza Un piccolo appartamento Ricavato all'interno Del commissariato Per tutelare Chi denuncia A 5 anni Dal Femminicidio Della mamma Di Terzigno Che fu uccisa Dal marito Davanti Alla scuola Di sua figlia Usciamo Dalla Repubblica Napoli Vediamo Cronache Napoli Gadget Scudetto Clan In guerra La vittoria Tricolore Degli azzurri Piace Alla camorra Per fare business L'interesse Delle cosche Emerge Dalle indagini Sulla stesa In via evangelista Torricelli Si riaccende Lo scontro A Sant'Antimo Fari puntati Sui verde Dopo l'agguato Micidio nelle palazzine Riesplode La faida della droga Bortone punito Per aver tentato Di mettersi in proprio Il ferito Mario Disidoro Ritenuto a capo Di una piazza E' stato ascoltato Dai carabinieri All'ospedale Di Aversa Accoltellato da una banda Di baby rapinatori Il ventenne Bloccato in corso Umberto Da un gruppo Di minorenni Ricoverato Al pronto soccorso Del cardarelli E a Giuliano Ressa Per la cena Con i neomelodici Le clienti In fila Sfondano Le vetrate Danni Al locale Di via Madonna Del pantano Vediamo adesso Cronache Di caserta Muore in ospedale Dopo l'operazione L'apertura Da San Felici A Cancello Il 37enne Di San Marco Trotti Trovato senza vite Al cardarelli Dove era stato operato Aireni I familiari Hanno presentato Una denuncia E la procura Ha disposto Il sequestro Della salma L'intervista Oggi su cronache Di caserta La camorra È nascosta Ma c'è La guardia Va tenuta altissima Il saluto Del questore Messineo Che lascia Caserta Per il Vaticano Per lui Un prestigioso Incarico A difesa Del Papa 14 mesi Intensissimi Con la mia squadra La collaborazione È fondamentale Contro la criminalità Dice il questore Messineo Di Caserta I campomaggiore Riciclatori Dei Belforte A Marcianise Le accuse Dei Pentiti Ai due fratelli Imprenditori Investivano I soldi Dei clan Andiamo a vedere La città Di Salerno Mercato Della casa Cancellato Dai B&B Il report Sulle quotazioni Immobiliari A Salerno E provincia Nel capoluogo I proprietari Puntano sul turismo Fitti Azzerati Gli appartamenti Più costosi Sul corso E nei nuovi parchi Residenziali Della zona orientale Positano E la perla Dei prezzi Come sempre A Palazzo di Città Liberi 279 posti Per le assunzioni E intanto Lungomare killer Ma il record Di multe Sempre a Salerno Addio a Luigi All'ultima ostetrica Condotta Di Baronissi E poi Di piede Salernitana Susa Tre frecce Per due corsie Bradaric Mazzocchi E Zambia Il Lizza Per la gara Con il Milan Usciamo Dalla Città Vediamo Le Crona Che è ancora Di Salerno Clinica del Sole I pazienti Respireranno L'aria Salubre Delle fonderie Nuova struttura A pochi metri Dalle fonderie Pisano Nel mirino Di De Luca Per l'inquinamento A chiedere Spiegazioni Alla Neuromed Le associazioni Salute e vita E medicina Democratica Ottavio De Luca Della Filca CISL Dice Fondi PNRR Per la delocalizzazione Delle industrie Chi ha autorizzato Chiede Le cronache Di Salerno Questo La costruzione Della nuova Clinica del Sole Vicino Alle fonderie Pisano Ancora A Salerno Qualità dell'aria In funzione Solo Tre centraline Due fisse Una Mobile A centropagina A Liberti Agli elettori Prezioso Il vostro sostegno Ringrazio Gli oltre 120 candidati Che hanno aderito Al programma Scafati Va al voto E 5 Stelle Aprono All'accordo Con il partito Democratico La Salerno Abbandonata Ignobile Il degrado Del vestuti Ormai ridotto Ad una passerella Per Rino Avella La denuncia E di spalla Perizia rivela Si è suicidata Dunque La riapertura Delle indagini Di recente Poi L'autopsia Psicologica Che analizza Post Video E memorie Il documento È nella richiesta Di archiviazione Della procura Per l'ipotesi Di omicidio Richiesta Che però È stata Rigettata Dal GIP Una perizia Psicologica Un esame Che analizza Scritti Post sui social Relazioni mediche Video E memorie Della giovane Tiziana Cantone Di 31 anni Un modo Per valutare Scientificamente Cosa possa essere Accaduto Nella mente Di una persona Per gli esperti Della procura Di Napoli Nord Tiziana Cantone La ragazza Trovata senza vita Il 13 settembre Del 2016 Nella sua cantina L'autopsia Psicologica Ha stabilito Che si è Suicidata Mentre la madre Insomma Ha chiesto Di indagare Ancora Perché Non è convinta Del suicidio A Benevento Atto aziendale Dell'Asle I sindacati Dei medici Chiedono Modifiche Andiamo a vedere Emergenza del 118 Dipartimento di salute mentale Dipartimento prevenzione E sanità territoriale Con una nota Fermata Degli dirigenti Medici Si presenta L'atto programmatorio Dell'emergenza Dell'emergenza Anche le cinture Queste le notizie In primo piano Andiamo a vedere Ancora Sulla home page Carabiniere Chiede perdono Ha ucciso Il rivale Ferito L'ex Nessuno sa perché Domani si terrà L'udienza di convalida Del 58enne Carabiniere Giuseppe Molinaro A Caserta Ad Avellino Uomo investito Da un'auto In via Colombo Paura In centro Ancora un pedone Investito in strada E allarme Sicurezza stradale In città A San Marzano Sul Sarno Il ponte Della Vergogna Sul fiume Sarno Alle ore contate Ok all'abbattimento Realizzato senza Autorizzazione Ha fatto da tappo Ai rifiuti Con rischi Per la sicurezza Alta velocità Il sindaco Dieboli Chieste opere Di mitigazione E compensazione Verranno demolite 54 abitazioni E sfrattate 200 famiglie Per costruire L'alta velocità Salerno Reggio Calabria E infine A Monteforte La strage Del bus Della 16 Chiuso il dibattimento Si va verso Il verdetto In appello Ed è tutto Per la nostra Rassegna stampa Grazie per averci seguito Una buona giornata Grazie a tutti